L'accoglienza turistica dei villeggianti nel comune di Maissana in Valdivara raggiunge il suo apice sul finire del mese di agosto con due distinti momenti. La più importante è certamente quella del fungo a Tavarone, ma si unisce la festa paesana, la sagra paesana di Torza, dove ci troviamo in questo momento, che è legata alla festa patronale di San Bartolomeo. La festa Torza trae origini dalla più antica festa del cavallo che per lungo tempo ha animato la piccola frazione, con il progressivo decremento degli esemplari equini si è voluto mantenere il momento di incontro e animazione per il paese. L'abbiamo trasformata in sagra paesana per divertirci un po' tutti, per far divertire anche i bambini, in prospettiva però della nostra festa principale che faremo a ottobre. La prima e la seconda domenica di ottobre organizziamo la sagra dello Stoccafisso con Fagiolane, che è il nostro punto forte. Alla sua 48esima edizione invece la sagra del fungo di Tavarone, una festa che richiama molti visitatori anche dal Tiguglio e che basa tutte le pietanze sulla prelibatezza di uno dei frutti di questa terra. L'appuntamento clou di tutta l'estate, che ormai ce lo portiamo alla 48esima edizione, diciamo che per quanto riguarda le nostre feste, le nostre manifestazioni, è il momento più importante dell'estate perché sia i residenti che la gente che sono qua in Vigilatura aspettano queste tre giorni. Gli organizzatori quest'anno hanno devoluto una parte dell'incassa ad una famiglia colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Siamo anche contenti di contribuire ad aiutare almeno una famiglia devolvendo una parte del ricavato. È un'accoglienza, Maessana è un comune di transito che però vorrebbe che le persone che transitano si fermassero anche un po' e tante si fermano.